Quando verrà attivata l'unità operativa complessa di chirurgia vascolare Aldea di Lecce? Lo chiede per la terza volta alla Regione il consigliere regionale Paolo Pagliaro, che già nel 2023 aveva inviato un'interrogazione e poi una richiesta di audizione lo scorso aprile, dopo aver verificato a seguito di un'ispezione che tutto era fermo. Un'odissea che dura da 20 anni all'ospedale Vitofazzi di Lecce, trattandosi di un hub di secondo livello, è prevista l'attivazione dell'unità operativa complessa di chirurgia vascolare, con dotazione di 12 posti letto. Nel Dipartimento Emergenza e Accettazione di Lecce è stato allestito un reparto mai entrato in funzione, per il quale sono stati assunti un medico chirurgo vascolare e uno specializzando. Sono stati anche spesi più di 150.000 euro per l'acquisto di apparecchiature inutilizzate, ecotomografo, strumentazione chirurgica, due emoteche vuote. La mancanza della chirurgia vascolare a Lecce, afferma Pagliaro, comporta il trasferimento d'urgenza dei pazienti agli ospedali di Tricasa e Brindisi o addirittura a Bari, trattandosi di patologie tempo correlate, cioè che necessitano di trattamenti terapeutici assistenziali celeri se non immediati. Il fattore tempo è vitale. Non pochi purtroppo i casi di chi ha perso la vita durante il tragitto, anche per le medicazioni post interventi o trattamenti vascolari. I pazienti leccesi sono costretti a tornare più volte negli ospedali dove sono stati operati con conseguenti costi e disagi notevoli, tanto che alcuni, chi può permetterselo, preferiscono farsi medicare privatamente a proprie spese. Per una struttura complessa servirebbe un organico di otto medici, sei è il numero minimo. I due attualmente in servizio si dividono fra l'attività ambulatoriale e le consulenze per il pronto soccorso e per i degenti degli altri reparti ospedalieri del Fazzi, collaborando con il Centro Cuore e il Dipartimento Ortopedico Traumatologico per interventi in cui c'è la necessità di un chirurgo vascolare. Il paradosso che evidenza Pagliaro è che sul bollettino ufficiale della Regione Puglia del 9 febbraio 2023 viene riportato l'avviso pubblico dell'ASL Lecce per il conferimento dell'incarico di dirigente medico di chirurgia vascolare presso il DEA del Fazzi. Erano state presentate sei candidature ed era stato fissato il colloquio per il 31 maggio 2023, annullato però a pochi giorni dalla tata d'esame, come già era accaduto nel 2021. Ad aprile 2023 evidenzia Pagliaro presentato un'interrogazione urgente rimasta lettera morta per far luce su questa procedura e ad aprile scorso anche una richiesta di audizione ancora non convocata. I mesi passano ma nulla si muove ed ecco perché ho presentato una nuova interrogazione alla quale mi aspetto che il Presidente Assessore Emiliano dia finalmente riscontro.